ok salve buonasera a tutti benvenuto al primo appuntamento del 2018 la prima video analisi serale dell'anno buon anno a tutti bene iniziamo come da consuetudine ad analizzare quello che è successo per quanto riguarda le principali piazze finanziarie europee partendo da una giornata è stata difficile è stata una giornata dove hanno chiuso quasi tutti al di sotto la parità reduci appunto dalla difficoltà incontrate durante l'ultima settimana del 2017 un dax chiude a meno 0,36 per cento un ibex a più 0,35 per cento un cac di parigi a meno 0,45 per cento un fuzzi londra meno 0,52 per cento e un fuzzimiba meno 0,04 per cento bene prima di arrivare alle singole di analizzare brevemente le singole coppie di valute andremo ad analizzare con attenzione quello che è successo per quanto riguarda il future dollar index e anche le forze delle singole valute benissimo allora iniziamo dal future dollar index siamo arrivati come appunto si evince dal grafico a un'altra forte movimentazione ribassista della giornata dove praticamente il prezzo è riuscito a raggiungere nuovamente quest'area che è stata testata se andiamo a restringerci un po più il grafico è stata testata già praticamente nel primi nelle prime giornate del mese di settembre dell'anno scorso vedete è salito poi c'è stato quest'altra risalita e poi praticamente siamo ritornati un'altra volta su questa zona zona dove praticamente in questo momento il prezzo sta battendo 91,63 che ovviamente qui nel caso in cui scende sotto questo rettangolo che ho disegnato molto probabilmente la fase la pressione ribassista potrebbe ulteriormente aumentare a dare manforte a quest'analisi abbiamo anche vedete anche l'indice relativo delle performance le singole valute rispetto al dollaro americano dove il dollaro americano è situato appunto nell'ultima parte della della scala con tutte le altre valute tutte proprio praticamente che hanno avuto una performance superiore rispetto a quella del dollaro americano quindi in questo momento il dollaro americano resta la valuta da vendere nei confronti di tutte le altre principali valute la più forte nella giornata parte molto con una forte con una decisione abbastanza una fase di apprezzamento la sterlina inglese che al momento ha un paio d'ore dalla chiusura della seduta odierna va ad aumentare il proprio scorro dello 0,64% mentre seguito dal dollaro canadese a più 0,59% è dall'euro poi a seguire abbiamo il dollaro lo yen il dollaro australiano il franco e il dollaro della nuova zeranda bene fatto questo andiamo subito a vedere quello che è successo quindi continuando con la nostra slide durante le news macroeconomiche di oggi oggi è stata la giornata dedicata al pmi manufatturiero dove si è partito da quella della germania che ha avuto un rialzo nel mese di dicembre a 63,3 punti a novembre l'indice era fermo a 62,5 punti nella zona euro anche esso anche lo stesso indice nella zona euro ha avuto un rialzo a 60,6 punti mentre a seguito il dato della gran britannia l'indice si è attestato a 56,3 da 58,2 quindi praticamente qua c'è stato una diminuzione mentre quello americano si è attestato a 55,5 punti della prima lettura fresh delle attese del consensus bene andiamo a vedere invece domani mercoledì 3 gennaio che cosa ci offre il mercato allora abbiamo ci sono praticamente tre piazze con che ancora domani è festa sono chiuse il giappone la nuova zelanda e la svizzera quindi si parte alle 9,45 dalla zona euro con l'indice direttore di acquisti del settore manufatturiero relativo alla germania di dicembre alle 9,55 invece dalla zona euro l'indice pmi manufatturiero poi dalla gran britannia l'indice direttore di acquisti del settore manufatturiero dicembre e lo stesso indice invece americano durante pomeriggio alle ore 15 e 45 bene questa è la situazione per quanto riguarda il calendario macroeconomico di domani bene partiamo l'anno sempre dall'euro dollaro la major ovvero lo scenario più tradato in assoluto del comparto valutario in questo contesto abbiamo già abbiamo ancora una posizione buy di cui abbiamo la prima è stata chiusa a profitto la prima operazione mentre questa qua il secondo target ci siamo avvicinati molto stamattina vedete al secondo target di 300 punti ho già spostato lo stop loss a breakeven vedete qua abbiamo a zero punti abbiamo quindi 300 punti di target ci siamo avvicinati stamattina a circa 20 punti dal dal target poi c'è stata questa fase di piccola fase di correzione si è appoggiato su questo livello di gun e poi iniziato a risalire al momento adesso praticamente abbiamo una piccola propensione ad un effetto positivo verso l'alto vediamo un attimo se poi domani è il caso di poter inserire altre operazioni la cosa importante che voglio dire ho cambiato anche i miei livelli non convenzionali che praticamente ci faranno da ci faranno appunto da da analisi per tutto l'anno quindi non si muoveranno questi qua bene quindi praticamente vedete sopra 120 916 c'è la possibilità di un allunco rialzista nel caso di un close sopra questa zona e fino a toccare 1 23 456 perché no potremmo arrivare anche verso 1 e 25 dato appunto questa debolezza del dollaro americano che si è portato in forza l'ha trascinato il dollaro americano si è trascinato diciamo con sé dalla fine del 2017 non vedremo tutte le varie coppie di valute perché sto analizzando possibili ingressi al mercato quindi sarete informati all'interno della chat telegram dell'ufficial chat dedicata alle varie indicazioni di trading e poi praticamente l'analisi avremo un approfondimento più importante diciamo un approfondimento di quello che andremo poi analizzare nel corso della del del mese il corso del mese in corso e durante la settimana il tutto quindi io sposto l'attenzione a domani mattina con il consueto appuntamento alle ore 8 e 30 per quanto riguarda appunto la diretta live in questo momento su euro dollaro siamo a 241 punti quindi mancano circa 40 punti al raggiungimento del target al momento lasciamo l'operazione così come sta e poi vediamo di domani andrò a modificare l'operazione andrò a spostare lo stop loss approfitto in modo tale da non rischiare più niente però voglio aspettare prima la chiusura della candela odierna per trarre le opportune conclusioni bene per stasera è tutto io vi ringrazio per l'attenzione e ci aggiorniamo alle prossime vi raccomando il 9 gennaio il webinar by osell il secondo webinar quindi è diventato una 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 tappa fissa dove praticamente andremo ma andrò ad analizzare insieme a manuela negro che cosa ci offrirà il 2018 se c'è già la possibilità di poter posizionarci a mercato su scenari interessanti bene ovviamente nel lungo periodo grazie mille per l'attenzione e quindi l'appuntamento è rinviato domani mattina alle ore 8 e 30 con la diretta live buona serata a tutti